tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm partner voxil vocegola dalla natura un aiuto per la tua voce voxil.it claudio guerrini benvenuto al festival tulipani di seta nera che ci fai qui che ci faccio qui il conduttore diciamo il mio mestiere classico la radio la televisione insomma gli eventi sono da sempre la mia la mia grande passione poi quest'anno il tema sociale unito al tema musicale dopo 17 anni come ho detto in conferenza stampa entro in questo festival diciamo che spero nell'effetto amadeus che è arrivato per fare un solo sanremo ne ha fatti cinque speriamo di fare cinque festival dei tulipani poi però non te ne vai al nome ma no 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 io spero di farne il doppio di farne dieci no è veramente un festival importante i temi sociali ambientali che io poi sui social cerco sempre un po di promuovere anche il radio quando posso nei tempi e nei modi in cui ciò è possibile poi la serata con grazia di michele la musica i concerti e la serata finale con lorena bianchetti insomma è un altro grande festival dei tulipani di seta nera che poi si muove tutto l'anno anche attraverso altre iniziative quindi entro in questa grande famiglia in punta dei piedi ma molto onorato di farlo hai visto qualche corto qualche clip hai visto qualcosa dei dei prodotti insomma che saranno poi votati e vinceranno questo festival ti sei fatto un'idea allora ai conduttori non è dato non è dato vedere prima perché ci pensano i giurati naturalmente i giorni prima poi del festival cercherò di guardare tutto ma diciamo che il conduttore ha un altro fa un altro mestiere invece i giurati sono quelli che hanno lavorato e quest'anno mi hanno detto che sono stati tantissimi 110 se non sbaglio i prodotti che sono arrivati quindi c'è stato tanto lavoro alla fine si è trovato all'unanimità e già dai titoli ho visto che ci sono delle opere molto interessanti che già dal titolo stuzzicano la curiosità e l'interesse senti continui ovviamente su rds e come sta andando la trasmissione mi sembra alla grande che differenza c'è tra radio e tv tra condurre in radio e condurre in televisione e condurre su un palco come in questo caso sono i tre mestieri della mia vita io poi ci aggiungo anche un quarto anzi un quinto io faccio anche il dj e ogni tanto scrivo insomma ballare la gente esatto poi scrivo sono il mio secondo libro insomma mi piace comunicare in generale beh sono mestieri diversi ma assolutamente complementari da amadeus che abbiamo citato prima a tutti i più grandi conduttori insomma tutti hanno fatto radio e possiamo citare gerry scotti possiamo citarli praticamente tutti quindi la radio è un lavoro complementare poi da tre anni c'è anche la rds social tv siamo anche in televisione contemporaneamente insieme alla radio quindi è un modo di comunicare varie una volta si andava in radio in pigiama adesso bisogna andare in giacca perché siamo anche contemporaneamente in televisione poi con roberta lanfranchi il programma va molto bene insomma il gurin lanfranchi show sono sette anni ormai che funziona quest'anno per la prima volta abbiamo superato il milione di ascolti quindi siamo siamo felicissimi di come di come sta andando è un momento è un momento bello di questa di questa mia chiamiamola carriera tra virgolette sono sempre un po sempre un po di pudore nel definire quello che faccio però sono molto contento e il festival dei turipani di setanera è una delle chic della mia di questo mio anno artistico diciamo quindi lavoro con la voce sempre in primo piano e la voce sempre tanta attenzione sì anzi mi vedrete al cinema pure tra qualche mese perché ho fatto una piccola parte come attore in un film che oggi mi è arrivato il trailer ho visto che sono anche nel trailer quindi sono molto emozionato titolo non si può mi hanno detto che non si può dire è arrivato il trailer e no ma il trailer che è ancora in versione non ufficiale diciamo poche settimane lo potrò dire una piccola particina poi anche una fiction su italia 1 insomma mi hanno cominciato a far fare l'attore quest'anno c'ho accorti che sei bello no si è accorti forse che so fare anche qualcos'altro no i ruoli di bello li lascio a Raul Bova li lascio ad altri diciamo così in ogni caso dicevamo si lavora sempre con la voce la voce è sempre grande attenzione alle tue corde vocali e sì io due anni e mezzo fa ho subito una piccola operazione purtroppo come succede a molti cantanti molti attori molti presentatori che urla io poi avendo fatto anche molta discoteca ho urlato molto bisogna ecco dico a tutti usate il diaframma quando urlate non urlate mai di gola provate a fare anche un po di locopedia e di stare un po attenti perché poi rischiate come me di avere dei piccoli noduli che poi vanno vanno tolti però come sentite al momento al momento va bene ma da adesso in poi ci devo stare un po più attento voci.fm lo dice il nome stesso insomma io sono nato praticamente con la fm ascoltando le piccole prime radio locali poi grandi networking fm quindi già questo termine fm mi è nel cuore bocca al lupo e buon lavoro a voi tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm partner voxil vocegola dalla natura un aiuto per la tua voce voxil.it